benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti in cui parleremo del java collection framework che è un insieme di classi che ci permettono di andare a operare su collezioni di oggetti e permettono di fare una serie di azioni e di operazioni in maniera molto efficiente e intuitiva. Che cos'è il java collection framework? Sostanzialmente è un insieme di interfacce che definiscono dei tipi di dato astratti, delle classi che implementano queste interfacce con diverse strategie e di alcuni algoritmi, ad esempio degli algoritmi di sort. Il java collection framework è composto da classi e interfacce che si trovano dentro il package java.util. Inizialmente classi e interfacce in questo framework trattavano degli oggetti, ma a partire da java 5, ovvero con l'introduzione dei tipi generici, tutte le classi e interfacce all'interno di questo framework utilizzano dei tipi generici. Le interfacce che troviamo nel java collection framework sono quelle illustrate in questa immagine. Abbiamo sostanzialmente due grossi gruppi di interfacce, quelle che si chiamano contenitori di gruppo e quelle che si chiamano dei contenitori associativi. I contenitori di gruppo sostanzialmente hanno l'obiettivo di contenere dei gruppi di oggetti, mentre invece i contenitori associativi hanno la proprietà di contenere non semplicemente dei gruppi di oggetti, ma bensì delle associazioni tra chiavi e valori. Quindi quando io vado a inserire degli elementi, non inserisco un elemento molto semplice come faccio nei contenitori di gruppo in modo da inserire una coppia chiave e valore, che poi mi permette di andare a fare una ricerca del valore data la sua chiave. Mentre invece nei contenitori di gruppo io inserisco dei gruppi, li ricerco, li estraggo, eccetera. Guardando un po' più nel dettaglio le interfacce che riguardano i contenitori di gruppo, vediamo che esiste un'interfaccia di base che si chiama iterable, che è l'interfaccia che abbiamo già menzionato parlando dell'ereditarietà, che permette di fare una scansione degli elementi che si trovano all'interno di un contenitore. Ovviamente questa interfaccia è molto generica e ha come unica caratteristica un metodo che permette di andare a costruire un iteratore. Una interfaccia che deriva da iterable è l'interfaccia collection, che permette di fare operazioni un po' più complesse, in particolare permette di andare ad aggiungere degli elementi all'interno di una collezione. L'interfaccia collection non ci dà nessuna operazione aggiuntiva, quindi possiamo andare a scandire gli elementi tramite le proprietà che ereditiamo dai iterable, ma non abbiamo altre caratteristiche aggiuntive. Collection è poi l'interfaccia di base per altre tre interfacce fondamentali, l'interfaccia sette, queue e liste. L'interfaccia liste permette di andare a definire un gruppo di elementi che hanno una caratteristica importante, si trovano in un certo ordine, per cui io posso andare ad accedere agli elementi che si trovano all'interno di una lista tramite un indice, un po' come si può fare con gli array. La differenza è che le liste sono dei contenitori dinamici e quindi possono automaticamente espandersi per andare a ospitare più elementi. Abbiamo poi le code in cui gli elementi sono memorizzati in un certo ordine e quindi io posso poi accedere agli elementi memorizzati nel contenitore tramite quell'ordine e gli insiemi, insiemi che sono sostanzialmente dei contenitori che hanno la caratteristica di non poter contenere elementi duplicati. Abbiamo poi una variante degli insiemi che sono insiemi ordinati in cui gli elementi vengono memorizzati in un certo ordine e poi abbiamo l'altro gruppo, quello dei contenitori associativi, in cui l'interfaccia di base e l'interfaccia map, per l'appunto, va a definire una corrispondenza tra una chiave e un valore e una sua sottointerfaccia che si chiama sorted map, che permette di mantenere gli elementi ordinati. Attenzione che sorted map mantiene gli elementi ordinati in base alla chiave, non in base ai valori stessi. Queste sono interfacce. Oltre a queste interfacce, il nostro framework delle collections fornisce una serie di classi che le implementano. Per cui, ad esempio, abbiamo array list e linked list che implementano l'interfaccia liste. Abbiamo hash set che implementa l'interfaccia set, tree set che implementa l'interfaccia sorted set. Per quanto riguarda le mappe, abbiamo hash map che implementa l'interfaccia map e tree map che implementa l'interfaccia sorted map. Questa è una panoramica e, se vogliamo avere una corrispondenza più adatta ai dettagli che sono forniti, possiamo andare a vedere che, date le tre interfacce principali, ovvero set, list e map, abbiamo diverse tecniche di programmazione, diversi tipi di dati che possono essere utilizzati per andare a implementare quelle interfacce, delle hash table, degli alberi bilanciati, degli array ridimensionabili, delle liste linkate, delle hash table più delle liste linkate, e queste sono diverse varianti. Per cui, se andiamo a prendere, ad esempio, l'interfaccia liste, abbiamo due classi che implementano array list e linked list, che rispettivamente usano come tecniche un array ridimensionabile, un po' come quello che abbiamo visto in alcuni nostri esercizi di esempio, e una lista linkata, ovvero una lista di elementi che sono collegati l'uno con l'altro. Se andiamo a vedere le mappe, abbiamo le mappe che utilizzano delle hash table e le mappe che utilizzano degli alberi bilanciati. Iniziamo a parlare dei contenitori di gruppo, ovvero tutta quella famiglia di interfacce, quindi poi anche di classi, che fanno capo all'interfaccia collection. Collection è un'interfaccia che rappresenta un numero variabile di elementi che sono contenuti all'interno del contenitore. Attenzione che quando parliamo di elementi, come al solito facciamo riferimento a oggetti e quindi dentro la collezione non vengono memorizzati gli oggetti in se stessi, ma vengono memorizzati dei riferimenti agli oggetti, esattamente come avveniva ad esempio per gli array, in cui non memorizzo un oggetto dentro l'array, ma nell'array memorizzo un riferimento all'oggetto. L'interfaccia collection non definisce in alcun modo, e quindi non fornisce nessun metodo che possa supportare questo tipo di vista, il fatto che gli elementi siano meno ordinati e che ci possono essere meno riduplicati. Quindi è un'interfaccia molto generica che permette di andare a gestire un insieme, un gruppo di oggetti. Ovviamente implementa i Terable e normalmente tutte le classi che implementano l'interfaccia collection hanno due metodi, un metodo senza parametri e un metodo che riceve una collezione. Il secondo metodo che cosa fa? Crea una collezione e poi aggiunge al suo interno tutti gli elementi che stanno nell'altra collezione. Attenzione, di nuovo, visto che stiamo parlando di riferimenti, non duplica gli oggetti ma semplicemente copia i riferimenti agli oggetti memorizzati nella collezione di partenza. Quali sono i metodi che l'interfaccia collection fornisce? Questi sono quelli principali. Abbiamo il metodo size che ci dice quanti elementi sono presenti, un metodo contents che ci permette di andare a verificare se un elemento è presente all'interno della collezione, il metodo add che ci permette di aggiungere un elemento e il metodo remove che ci permette di eliminare quell'elemento. Oltre a questo abbiamo tanti altri elementi, ad esempio il metodo exempli che ci permette di capire se è vuoto che sostanzialmente consiste nell'andare a verificare ad esempio se l'interfaccia size è vuota, add all, remove all che sostanzialmente vanno ad aggiungere e cancellare tutti gli elementi prendendoli da un'altra collezione, clear che permette di andare a cancellare gli elementi, tutti quelli che stanno all'interno di una collezione e toarray che sostanzialmente prende gli elementi di una collezione e genera un array mettendoli tutti dentro. Ovviamente abbiamo anche il metodo iterator che in realtà non è proprio dell'interfaccia collection ma viene ereditato dall'interfaccia iterable. Come faccio a utilizzare una collezione o meglio una classe che implementa un'interfaccia collection, immaginiamo di avere una collezione di persone, ricordatevi che tutte le interfacce del framework collection sono dei tipi generici e quindi devo andare a specificare il tipo degli elementi che stanno all'interno della collezione. Posso utilizzare ad esempio una linked list. A questo punto una volta che ho una collezione posso utilizzare il metodo add per aggiungere un nuovo elemento, il metodo size per andare a capire quanti elementi sono presenti all'interno della nostra collezione e ovviamente posso andare a utilizzare questa collezione per andare a riempire un'altra collezione, ad esempio qui ho utilizzato un preset e posso andare a prendere tutti gli elementi che stanno in una collezione e riempire un array con questi elementi. Ricordatevi che stiamo parlando di riferimenti. Un'altra importante interfaccia che si trova nel gruppo dei contenitori di gruppo è quella che si chiama list. List può contenere elementi duplicati e soprattutto prevede che l'ordine di inserimento sia preservato. Quindi gli elementi vengono inseriti, come al solito ad esempio utilizzando il metodo add che è definito nell'interfaccia collection, dopodiché io posso utilizzare l'ordine di inserimento per accedere agli elementi stessi. Ovviamente io posso anche utilizzare altri metodi per definire un punto di inserimento, quindi invece di inserire alla fine del mio gruppo di elementi posso inserire in testa o in qualunque altra posizione. Quindi il concetto fondamentale che viene introdotto dall'interfaccia list rispetto all'interfaccia collection è per l'appunto l'idea che c'è una posizione e quindi posso utilizzare la posizione per andare a recuperare gli elementi ma anche volendo per andare inserirli. I principali elementi che possiamo trovare all'interno dell'interfaccia list sono get, set, add però con l'indice e remove anche questo con l'indice. Ricordatevi che add e remove erano due metodi presenti già nell'interfaccia collection ma avevano soltanto un elemento oppure invece dell'indice l'elemento che deve essere rimosso. Ovviamente oltre a questi metodi che sono quelli principali ci sono anche altri metodi ad esempio un metodo index of che mi permette di andare a recuperare quale l'indice di un elemento dato all'interno di una lista oppure last index of che sostanzialmente fa la stessa cosa ma partendo dal fondo della lista. Esiste un altro metodo che si chiama sublist che mi permette data la lista di andare a estrarre una sottolista dando i due indici di inizio e di fine all'interno della lista principale. L'interfaccia lista ha delle classi che la implementano direttamente e che sono array list e linked list. Queste due classi utilizzano due tecniche diverse per andare a memorizzare gli elementi. Uno utilizza un array che poi può essere ridimensionato, l'altro usa una lista linkata. Queste due classi hanno qualche piccola differenza, ad esempio senza entrare nel dettaglio array list ha un costruttore che permette di specificare la capacità iniziale perché è ovvio che se questa classe si basa su un array io potrei voler specificare una dimensione iniziale dell'array invece di utilizzare quella di default. Per quanto riguarda la linked list io ho dei metodi add first, add last, get first, get last, remove first, remove last perché questi metodi possono essere utilizzati in maniera molto efficiente all'interno di una lista linkata perché è molto facile andare a recuperare il primo o l'ultimo elemento e rimuoverli senza andare a interferire con gli altri elementi. Mentre invece se faccio l'operazione di rimozione del primo elemento all'interno di un array quello che succede è che tutti gli elementi dovrebbero essere spostati di una posizione per andare a occupare quella che è stata tolta. Come faccio a utilizzare le liste? Lo posso fare tramite i metodi che abbiamo a disposizione all'interno di questa interfaccia. Ad esempio qui vediamo alcuni usi di una lista. Vi faccio notare tra l'altro che innanzitutto qui quando parliamo del riferimento L che punta la lista stiamo utilizzando come tipo liste invece del nome della classe. Questo si fa perché normalmente in questo modo io posso tranquillamente in un futuro andare a modificare il tipo dell'oggetto che creo, quindi passare ad esempio da una array list, una linked list, lasciando intatto la dichiarazione L e tutto l'uso perché a questo punto tutto il corpo del metodo farà riferimento a L di tipo list e quindi che sia una array list o che sia una linked list non importa, tutti gli accessi passeranno attraverso l'interfaccia che entrambe implementano. Quello che possiamo fare è ovviamente fare un'operazione di add esattamente come faremmo una collezione e quindi questo aggiunge un nuovo elemento nella prima posizione. Possiamo fare un'operazione di add andando a specificare un indice, in questo caso l'elemento che ragionevolmente si trovava già in quella posizione viene spostato in avanti, per cui se inseriamo 42 che andrà messo nella posizione 0, aggiungendo 13, 42 verrà spostato in avanti in una posizione finale, nella posizione 1. L'operazione di set invece cosa fa? Non aggiunge l'elemento ma rimpiazza l'elemento eventualmente già presente, per cui l'elemento che si trova in posizione 0 viene sostituito con 20, l'elemento era 13, quindi 13 viene sostituito da 20. E poi c'è l'operazione di get che permette di specificare un indice e restituisce l'elemento che si trova a quell'indice. Attenzione che l'operazione di add con un indice funziona soltanto se l'indice si trova nell'intervallo corretto o eventualmente nel primo indice vuoto all'interno del nostro array, della nostra lista, scusate. Altrimenti, avendo qui soltanto due elementi inseriti, se cerco di inserire un elemento in posizione 9, visto che gli elementi che vanno dalla posizione 2 alla posizione 8 non ci sono, non posso aggiungere un elemento perché non saprei che cosa mettere in quelli intermedi, per cui viene lanciato un'eccezione di index out of bounds exception. Oltre alle liste abbiamo un'altra interfaccia che deriva dall'interfaccia collection che si chiama Q. Le code sostanzialmente permettono di mantenere gli elementi inseriti secondo un qualche ordine. Potrebbe essere l'ordine di inserimento e quindi in questo sono un po' simili alle liste, oppure l'ordine di priorità, quindi gli elementi vengono ordinati in base a un qualche criterio di ordinamento degli elementi stessi. Normalmente quando io ho a che fare con una lista esiste una posizione privilegiata in cui gli elementi vengono prelevati, cioè il primo elemento della nostra lista. E posso accedere a questi elementi tramite questi due metodi PIC e POL. Il primo permette di andare a sbirciare cosa c'è in prima posizione, ma l'elemento non lo elimina dalla coda, mentre invece POL, oltre a vedere che elemento c'è, lo elimina, lo toglie dalla testa della nostra coda. Le due classi che implementano le code sono linked list e priority queue. La linked list implementa quel criterio che si chiama first in first out, ovvero il primo elemento che aggiungo e anche il primo che vado a prelevare, cioè quello che si troverà in testa alla mia coda, mentre invece nel caso della priority queue viene utilizzato quello che è l'ordinamento degli elementi, che può essere l'ordinamento naturale oppure un ordinamento dettato da un comparatore, se questo viene passato al costruttore. Un esempio per capirci, qui vado a definire due code di interi, una FIFO che utilizza una linked list e un'altra che è una priority queue che utilizza la classe priority queue. Se io vado ad aggiungere in entrambi i casi 3, 1 e 2, quello che ottengo per la FIFO è che il primo elemento che inserisco, ovvero 3, sarà anche il primo che vado a recuperare tramite PIC o tramite POL se preferite. Nel caso della priority queue invece il primo elemento che viene estratto è quello che è il primo nel nostro criterio di ordinamento. Non avendo specificato nessun parametro tipo comparatore nel costruttore della nostra priority queue, viene utilizzato l'ordinamento naturale, cioè verranno ordinati gli interi e quindi l'intero più piccolo è quello che sostanzialmente viene estratto. La terza interfaccia che estende l'interfaccia collection di base è l'interfaccia set. L'interfaccia set è un'interfaccia un po' particolare perché non contiene nessun metodo in aggiunta a quelli già definiti in collection. Perché? Perché sostanzialmente i metodi sono quelli. L'unico scopo che viene svolto dall'interfaccia set è uno scopo di andare a marcare le classi che la implementano come classi che vanno a garantire che gli elementi al loro interno non contengono duplicati. Per cui dati i due elementi e uno e due che si trovano all'interno della nostra collezione non sarà mai possibile che uno è uguale ai due. Se questo succede quando cerchiamo di aggiungere un nuovo elemento questo verrà scartato. Una sotto interfaccia di set è l'interfaccia sorted set che di nuovo non ha elementi duplicati ma mantiene gli elementi in un certo ordine. L'ordine può essere definito con l'ordinamento naturale quindi l'interfaccia comparable oppure passando un comparatore al costruttore della classe che implementa sorted set. A questo punto quando io vado a scandire gli elementi questi verranno visitati in ordine nell'ordine che viene specificato o dall'ordinamento naturale oppure dal comparatore che io passo al costruttore. Essendoci un ordine i metodi first e last mi danno il primo e l'ultimo elemento. Tenete presente che first e last hanno senso su un insieme perché su un insieme ordinato ma non su una lista perché in una lista io potrei avere due elementi che sono assolutamente identici e quindi potrei avere dei dubbi su quello che è l'elemento più piccolo mentre invece in questo caso primo e ultimo sono chiaramente identificati e ce n'è uno solo. Le classi che implementano l'interfaccia set sono hash set che implementa direttamente set, linked hash set che estende hash set e mantiene un ordine che è l'ordine di inserimento degli elementi e poi tri set che implementa sotto il set e quindi mantiene gli elementi ordinati. Attenzione quando utilizziamo gli set ordinati, in particolare tri set, perché ovviamente quando andiamo a mettere gli elementi in un insieme ordinato ci aspettiamo che questi elementi siano ordinabili e quindi è necessario che questi elementi abbiano un ordinamento naturale oppure che sia fornito un comparatore che è in grado di definire un ordine tra questi elementi. Quindi se utilizzo le classi predefinite ad esempio string o integer o qualunque classe wrapper questa caratteristica è già garantita perché tutti implementano l'interfaccia comparable. Se voglio andare a mettere dentro un insieme ordinato elementi di una mia classe devo garantire che la mia classe implementi comparable oppure fornire un comparatore che sia in grado di dirmi qual è l'ordinamento da mantenere all'interno dell'insieme. Prima di passare a vedere i contenitori associativi facciamo una piccola parentesi su quelli che sono gli iteratori di cui abbiamo già parlato brevemente quando abbiamo affrontato il tema dell'ereditarietà vedendo gli iteratori come un caso particolare di uso dell'ereditarietà. L'interfaccia iterable è un'interfaccia che è alla base di tutte le nostre interfacce che rappresentano contenitori di gruppo ed è un'interfaccia che fornisce un unico metodo iterator. Quindi tutte queste classi sono iterabili quindi ovvero possono essere scandite tramite un iteratore. Quindi gli iteratori che cosa sono? Sono un meccanismo che ci permette di tenere traccia della posizione in cui siamo durante la scansione degli elementi di un contenitore e permettono di andare a vedere l'elemento successivo. Gli iteratori sono indipendenti per cui io posso utilizzare più iteratori su una stessa collezione per andare a fare più scansioni indipendenti. Quindi immaginiamo di voler andare a mostrare tutte le possibili coppie di elementi di una collezione ecco in questo caso ho la necessità di andare a utilizzare due iteratori. I metodi dell'interfaccia iterator ovvero l'oggetto che viene gestito dal metodo iterator sono sostanzialmente il metodo esnext che mi dice se c'è un prossimo elemento su cui iterare, next che per l'appunto mi dà quell'elemento e avanza di una posizione ed eventualmente il metodo remove che mi permette di andare a cancellare l'elemento corrente. Se vogliamo utilizzare un iteratore per andare a scandire gli elementi cosa faccio? A partire da un oggetto che implementa un'interfaccia iterable, qui c'è l'esempio della linked list ma in realtà qualunque classe del nostro frame o delle collezioni implementa iterable, vado a definire un iteratore utilizzando il metodo iterator, chiamo il metodo esnext e poi per avanzare, il metodo esnext per verificare se c'è un prossimo elemento su cui iterare e per avanzare utilizzo il metodo next. Quindi in questo modo vado a prelevare tutti gli elementi uno dopo l'altro finché non c'è più un prossimo elemento ovvero sono arrivato alla fine della mia iterazione e ho elaborato, analizzato tutti gli elementi che stanno all'interno della mia collezione. Abbiamo visto che il costrutto for each, quindi con i due punti, permette di andare a scandire tutti gli elementi di una qualunque classe che implementi iterable. Quindi l'interfaccia iterable e la sua interfaccia collegata iterator sono utilizzate in maniera trasparente tramite il costrutto for each. Oltre a questo costrutto c'è anche all'interno dell'interfaccia iterable un metodo di default, quindi sostanzialmente la cui implementazione è già data, che si chiama for each e che accetta come parametro un consumer. Se ricordate il consumer è una di quelle interfacce funzionali che permettono di accedere a un elemento facendo qualcosa. Non restituisce nulla, quindi l'unico metodo di consumer si chiama accept e accetta un oggetto di tipo t ma non restituisce nulla, quindi restituisce void. Per cui ad esempio volendo andare a stampare tutti gli elementi che stanno all'interno di una collezione che implementa iterable, io posso fare la mia collezione, punto for each e poi vado a mettere un oggetto di tipo consumer. In questo caso utilizzo una lambda che mi prende un elemento P e chiama system out println. Quindi in questo modo in pratica stampo quello che è il contenuto di ogni elemento. Vedete che questa scrittura è decisamente compatta e permette di andare a fare operazioni abbastanza complicate. Possiamo confrontarla con quella che vediamo prima dove c'è un for. Questa è un po' più lunga perché mi richiede di andare a dichiarare il tipo della variabile P ma per il resto sono sostanzialmente analoghe. Il vantaggio dell'altra è che io posso utilizzare delle funzioni di tipo lambda che sono decisamente compatte. La seconda grande famiglia di interfacce e classi dichiarate all'interno del nostro framework delle collezioni è quella dei contenitori associativi. L'interfaccia fondamentale che troviamo in questo gruppo è l'interfaccia map. Map rappresenta l'interfaccia che devono implementare tutte le classi che realizzano dei contenitori che permettono di associare chiavi a valori, ad esempio il codice fiscale a una persona. Sia le chiavi che i valori ovviamente sono oggetti quindi non posso utilizzare dei tipi primitivi. Un aspetto fondamentale da ricordare quando dobbiamo utilizzare una mappa è che le chiavi devono essere uniche, ovvero data una chiave esiste un unico valore corrispondente a quella chiave. Se ho più chiavi duplicate ecco allora non posso utilizzare una mappa o comunque non la posso utilizzare direttamente. Anche in questo caso esistono dei costruttori raccomandati per le classiche implementano la mappa che sono un costruttore vuoto che crea una mappa vuota e un costruttore che riceve un'altra mappa che sostanzialmente permette di andare a popolare la mappa che stiamo costruendo con le copie chiavi valori prese da una mappa già esistente. I metodi principali presenti all'interno della classe dell'interfaccia map sono put e get. Put permette di andare a mettere una coppia chiave valore all'interno della mappa get permette di specificare una chiave e di ottenere un valore. Posso utilizzare il metodo contains key per andare a verificare se una certa chiave è presente nella mappa. Ovviamente posso andare a rimuovere una certa chiave e il suo valore associato e poi posso andare ad accedere all'insieme delle chiavi o all'insieme dei valori tramite key set e values attenzione map non estende collection o iterable quindi io non posso andare a iterare su una mappa quello che posso fare è andare a iterare sull'insieme delle chiavi o sulla collezione dei valori anche perché dovendo andare a iterare su una mappa non saprei se iterare sull'uno o sull'altro quindi non esiste un iteratore sulle mappe ma quello che voglio posso fare è andare a prendere l'insieme delle chiavi o la collezione dei valori e andare a fare un'iterazione su di esse. Ovviamente esistono anche i metodi size is empty e clear che permettono di andare a verificare la dimensione della mappa ovvero quante chiavi ci sono i valori sono uguali essendo un'identificazione univoca verificare se è vuota e andare a svuotare la nostra mappa. Un esempio di uso delle mappe lo vediamo in questo frammento di codice dove abbiamo una mappa di stringhe e persone il primo parametro è il tipo della chiave e il secondo è il tipo del valore quindi people permette di associare una stringa a una persona dove la stringa sarà il suo codice fiscale. Il metodo put mi permette di andare a mettere la chiave e il valore chiave e valore quindi in questo modo associo tante chiavi con i relativi valori e quindi successivamente posso andare a verificare se una certa chiave è presente all'interno della mappa e utilizzare il metodo get che ricevendo una chiave restituisce il valore corrispondente. Ovviamente posso anche sapere quante sono le chiavi presenti all'interno della nostra mappa. Come vi dicevo non posso andare a iterare direttamente su una mappa perché sono delle coppie, chiavi e valori, quello che posso fare è andare a prendere la collezione con tutti i valori tramite il metodo values e andare a iterare su questa collezione oppure l'insieme che contiene le chiavi e andare a iterare su questo insieme. Vi faccio notare che i due metodi keyset e values restituiscono rispettivamente un insieme e una collezione perché perché per l'appunto le chiavi hanno la caratteristica di essere uniche e quindi andando a dichiarare che il tipo di ritorno di keyset è un insieme stiamo sostanzialmente garantendo a chi utilizza questo metodo che all'interno di quel contenitore non ci saranno duplicati. Per quanto riguarda i valori invece qui non è garantita l'unicità quindi ad esempio è possibile che due chiavi distinte puntino o facciano riferimento allo stesso valore e quindi qui viene restituita una collezione. Una interfaccia che estende l'interfaccia map è l'interfaccia sorted map che sostanzialmente fornisce un ordinamento degli elementi memorizzati all'interno della mia mappa tramite l'ordinamento naturale oppure tramite un comparatore che viene passato al costruttore. Le implementazioni dell'interfaccia map sono principalmente tre. l'interfaccia map è hash map che non è ordinata, linked hash map che mantiene l'ordine di inserimento quindi gli elementi oltre ad essere inseriti all'interno della mappa vengono inseriti in una linked list e quindi l'ordine delle chiavi viene mantenuto e poi tree map che invece ordina le chiavi man mano che vengono inserite all'interno della mappa e quindi quando vado a vedere l'insieme delle chiavi oppure vado a vedere i valori me li ritrovo ordinati in base alla chiave. Un'ultima interfaccia che è definita all'interno del nostro framework delle collezioni è l'interfaccia optional. L'interfaccia optional serve per rispondere a quello che è un problema abbastanza diffuso all'interno dei linguaggi di programmazione ad oggetti, ovvero quello che si chiama il problema della nullabilità. Molto spesso quando andiamo a utilizzare delle funizioni dei metodi in Java ma in tanti altri linguaggi di programmazione esiste la convenzione che un metodo in assenza di un risultato ci restituisca null. È ovvio che se un metodo può restituire null gli devo fare attenzione quando lo chiamo e andare a controllare il risultato prima di utilizzarlo, altrimenti quello che ottengo è ovviamente una null pointer exception. Quindi in generale quando io utilizzo questa convenzione di restituire null in assenza di risultato sto obbligando il chiamante a fare un controllo aggiuntivo e se questo controllo non viene fatto rischio di avere una null pointer exception, quindi c'è la possibilità di andare a non far funzionare il programma correttamente se non vengono fatti i controlli opportuni. Per questo motivo è stata introdotta la classe optional che rappresenta per l'appunto la presenza di un potenziale valore. Sostanzialmente optional che cos'è? È una classe che può contenere un unico valore, essendo optional generica di tipo t e per accedere al valore contenuto al suo interno devo utilizzare dei metodi specifici che mi permettono di andare a verificare se il risultato è nullo o meno e mi forzano a fare un controllo. In particolare i metodi che sono definiti nella classe optional sono isPresent, quindi mi permette di andare a verificare se c'è un valore oppure se il contenuto è nullo, ifPresent, che sostanzialmente mi dice se l'elemento è presente allora ti passa un consumer che verrà eseguito e a cui passerai il valore. Il metodo get, che restituisce un valore se è presente, altrimenti lancia un'eccezione, or else, che mi dice dammi il valore contenuto all'interno dell'optional oppure questo valore di default. E esiste l'altra variante di or else in cui invece di avere un valore costante predefinito o un supplier. Qual è il vantaggio di questa seconda variante del metodo or else? E' che se immaginiamo di avere un optional che eventualmente è nullo e questo optional contiene dei valori che sono potenzialmente complicati, invece di andare a definire comunque un valore che magari non verrà restituito, il valore di default viene costruito dal supplier se e soltanto se è necessario, ovvero se l'optional è vuoto e quindi invece di restituire il valore viene restituito ciò che fornisce il nostro supplier. Per andare a costruire un optional io posso utilizzare il metodo of a cui passo un oggetto e questo viene incapsulato all'interno dell'optional. Attenzione che of lancia un'eccezione se il valore che cerco di passare è nullo. Oppure utilizzo il metodo of nullable che mi permette di creare un optional ed eventualmente un optional vuoto. Se invece voglio creare un optional vuoto utilizzo il metodo empty che mi restituisce per l'appunto un oggetto optional che è vuoto. Ragionovamente sarà sempre lo stesso. Tutta questa serie di metodi, ad esempio il fatto di dover chiamare get per ottenere il risultato o il fatto di chiamare of oppure empty, in pratica forza chi sta utilizzando il oggetto di tipo optional a prestare attenzioni aggiuntive nell'andare a manipolare i valori di ritorno sia all'interno del metodo nel restituirli sia una volta che ho ricevuto questi metodi. Quindi sostanzialmente è una specie di salvaguardia aggiuntiva che permette di andare a dare un avvertimento e quindi forzare a fare un'operazione in più, ad esempio chiamare il get, invece di utilizzare direttamente il valore di ritorno. Quindi è una complicazione in più che però dovrebbe andare a risparmiare una serie di errori che sostanzialmente possono condurre a null pointer exception. A questo punto non ci resta che andare a capire in pratica come possiamo andare a utilizzare i nostri, le nostre interfacce e classi che sono definite all'interno della framework delle collezioni. Innanzitutto la raccomandazione generale è quella di utilizzare il più possibile le interfacce generali invece di quelle più specifiche o delle classi che le implementano. Perché? Perché in generale le interfacce sono più flessibili e sono più facili da aggiornare in futuro. Per cui se io voglio utilizzare una lista perché mi interessa posizione di un elemento all'interno della collezione, conviene utilizzare la interfaccia list invece della classe linked list direttamente come tipo del variabile piuttosto che dell'attributo perché in futuro io posso tranquillamente andare a cambiare la linked list con qualunque altro tipo senza andare ad impattare in alcun modo sul codice già esistente. Soprattutto utilizzare l'interfaccia ci permette di focalizzarci innanzitutto su quello che sono le caratteristiche che noi vogliamo dal contenitore. Collection ci interessa esclusivamente la presenza di un insieme. Lista vogliamo avere la posizione all'interno del nostro contenitore. Set vogliamo evitare la duplicazione di elementi. Successivamente una volta che abbiamo deciso l'interfaccia ovvero le funzionalità che noi vogliamo avere possiamo concentrarci su quello che è invece la classe che la implementa e quindi andare a considerare variazioni che possono andare a impattare le prestazioni in termini di tempo o di memoria occupata delle diverse implementazioni. In generale le regole molto semplici che dobbiamo seguire sono che nel momento in cui abbiamo bisogno di un accesso a un valore data una chiave dobbiamo utilizzare una mappa. In particolare se abbiamo la necessità di mantenere gli elementi ordinati in base alla chiave conviene utilizzare una sorted map. Altrimenti se ci interessa esclusivamente un contenitore di elementi possiamo utilizzare una collection. Se non basta avere un contenitore di elementi ma ci interessa anche la posizione e quindi l'accesso tramite indice ragionevolmente dovremmo utilizzare una lista. Quale lista, quale classe implementativa dipende dal tipo di operazioni che vogliamo fare e da quali sono le caratteristiche. Se ci interessa un accesso ordinato possiamo utilizzare una coda che quindi può avere degli ordini diversi in funzione del tipo di implementazione. Se invece ci interessa andare ad avere degli elementi che escludano i duplicati quello che possiamo andare a utilizzare è un insieme e volendo mantenere gli elementi ordinati possiamo utilizzare un sorted set. Una volta scelta l'interfaccia dobbiamo andare a scegliere la classe che la implementa e la scelta si basa sostanzialmente su considerazioni principalmente di efficienza. Quando parliamo di efficienza intendiamo efficienza sia nel tempo che nello spazio che sono due aspetti diversi che dobbiamo considerare. In generale l'efficienza soprattutto in termini di tempo si valuta come una funzione del numero di elementi che stanno dentro un contenitore. Quindi diciamo che abbiamo un contenitore che ha un comportamento costante se le dimensioni del contenitore o il tempo che chiediamo a fare delle operazioni è indipendente dal numero di elementi. Diciamo che abbiamo un contenitore che ha un comportamento logaritmico se ad esempio il tempo o l'occupazione dello spazio cresce in maniera logaritmica rispetto al numero di elementi, lineare se cresce ovviamente in maniera proporzionale al numero di elementi oppure possiamo avere comportamenti che sono log lineari oppure quadratici quando ad esempio il tempo per eseguire un'operazione cresce come n log n oppure come n quadro dove n rappresenta il numero di elementi che sono presenti all'interno del nostro contenitore. Tanto per darvi un'idea quando parliamo di efficienza in termini di tempo questi sono gli andamenti dei tempi per andare a fare delle operazioni con dei contenitori che hanno tempi di esecuzione che sono costanti e quindi sostanzialmente passando da una dimensione 1 a una dimensione 10 non cambia nulla. Logaritmici e quindi passando da 1 a 10 abbiamo un piccolissimo incremento. Lineari, quindi passando da 1 a 10 il tempo cresce di 10 volte. Log lineari è il nostro tempo invece di crescere 10 volte cresce 20 volte. Quadratico ecco il tempo cresce tantissimo qui il diagramma è tagliato ma ovviamente per un contenitore che contiene 10 volte gli elementi di quello di partenza il tempo per eseguire le operazioni è 100 volte tanto. Andiamo a considerare quelle che sono le implementazioni della classe lista. Le due implementazioni fornite nel framework delle collezioni sono ArrayList e LinkedList. Questi sono le operazioni principali che noi possiamo andare a fare. L'accesso a un elemento data la sua posizione. L'inserimento di un elemento in testa quindi come primo elemento quindi con indice 0 e l'inserimento in coda alla fine della nostra lista. Nel caso dell'ArrayList l'accesso a un elemento dato un indice ha un tempo costante. Se ci ricordiamo questo è basato su un Array e quindi l'Array ci permette di accedere a qualunque elemento sostanzialmente con lo stesso tempo. L'inserimento in testa quindi nella prima posizione per un Array richiede lo spostamento in avanti di tutti gli elementi già presenti e quindi richiede un tempo lineare ovvero proporzionale al numero di elementi che sono presenti all'interno della nostra lista. L'aggiunta in coda sostanzialmente è un'operazione che è costante perché vado ad aggiungere l'ultimo elemento all'interno dell'Array e questa operazione non dipende da quanti elementi ho nell'Array. Ovviamente se quell'elemento causa il ridimensionamento dell'Array quest'operazione è costosa ma qui stiamo facendo un ragionamento medio non andiamo a valutare i casi particolari. Le stesse operazioni applicate su una LinkedList invece hanno delle complessità diverse per cui accedere ad un elemento dato su indice per una lista linkata ha una complessità che è lineare. Lineare perché devo andare a scorrere n elementi prima di raggiungerlo. L'aggiunta in testa invece è una complessità che è sostanzialmente costante. Non devo fare nulla che aggiungere l'elemento, non devo spostare gli altri come devo fare nell'Array quindi questa operazione non dipende dal numero di elementi presenti nella lista. Infine l'aggiunta in coda ha una complessità che è costante quindi di nuovo non dipende da quanti elementi sono già presenti all'interno della lista. Perché questi sono i comportamenti? Vediamo un attimo come sono realizzati la LinkedList e la ReList. Quando abbiamo a che fare con una LinkedList sostanzialmente abbiamo la nostra classe LinkedList che ha due riferimenti al primo e all'ultimo elemento e ogni elemento ha un riferimento al successivo e al precedente. Oltre ad avere un riferimento all'elemento, il valore che io ho messo all'interno della mia collezione. Quindi se io ho una LinkedList di stringhe, ecco ogni elemento della mia LinkedList punterà a una stringhe. Ovviamente nel momento in cui io devo andare ad aggiungere un elemento alla mia LinkedList cosa faccio? Devo andare ad aggiungere un elemento dopo l'ultimo che ho presente all'interno della LinkedList e quindi il mio ultimo elemento non punterà più a quello che era precedentemente l'ultimo, punterà a quello che ho appena inserito e dovrò ovviamente andare ad aggiornare il puntatore Next dell'ultimo elemento che punterà a quello che ora è l'ultimo. Quando invece ho a che fare con un ArrayList, la mia classe ArrayList ha al suo interno un riferimento a un Array di elementi, per cui il primo elemento dell'Array punterà al primo elemento, il secondo punterà al secondo elemento che ho inserito all'interno del mio Array e ovviamente via di questo passo, per cui il decimo elemento punterà al decimo elemento che ho inserito. Ovviamente quando cerco di aggiungere un elemento qui devo fare un'operazione di riallocazione, quindi cancello il vecchio Array, ne creo uno che abbia una dimensione più grande e quindi aggiungo i vari elementi. Per cui queste sono le strutture dati che vengono utilizzate da LinkedList e da ArrayList, per cui questo ci porta ad avere queste tempistiche. Per cui che scelte dobbiamo fare tra ArrayList e LinkedList? Dipende dalle operazioni che noi facciamo più frequentemente e che ci interessa che siano più efficienti possibili. Se dobbiamo andare ad accedere molto spesso ad elementi utilizzando un indice, è ovvio che l'ArrayList è decisamente meglio. Una volta che abbiamo popolato la nostra ArrayList, l'accesso a un certo elemento è un'operazione che è indipendente dal numero di elementi. Se invece la stessa operazione la facciamo con una LinkedList, questa operazione ovviamente ha una complessità che è lineare e quindi è decisamente più costosa, richiede molto più tempo. Se devo fare tante aggiunte in testa è ovvio che preferisco una LinkedList rispetto a una ArrayList. Se l'operazione che io devo fare è ad esempio andare a scandire gli elementi, ma l'aggiunta che faccio è un'aggiunta normale in coda, allora entrambe le due implementazioni ci danno una complessità, un'efficienza temporale che è sostanzialmente costante e quindi sono assolutamente equivalenti. Quindi in base alle operazioni che prevedo di fare più spesso e che è importante che siano estremamente efficienti, posso andare a scegliere l'una piuttosto che l'altra. Tenete presente che questo ha un impatto soltanto in termini di efficienza, ovvero il tempo che impiego a fare una certa operazione. Le funzionalità, quindi il risultato che il nostro programma produce, sono esattamente le stesse. Le ottengo in dieci secondi oppure in due minuti a seconda di una struttura piuttosto che l'altra. Qualche indicazione sull'uso delle mappe. Quando io ho una mappa, un'operazione che faccio e che è quella che è molto efficiente, le due implementazioni, HMAP e Primap, hanno delle complessità che sono molto basse. Se facciamo riferimento a quel diagramma di complessità che abbiamo visto prima, sostanzialmente nel caso della HMAP l'accesso è costante, quindi avere dieci elementi o averne 100 all'interno della nostra HMAP non cambia il tempo di accesso. Mentre invece per la Primap il tempo è logaritmico, quindi sostanzialmente avere 10 elementi o averne 100 cambia un po' il tempo, diciamo che indicativamente lo raddoppia, ma non cresce tantissimo. Quindi rispetto a il tempo di una ricerca lineare che posso fare su una lista, l'uso di una Primap oppure di un HMAP è decisamente più efficiente. Quindi l'operazione di base che dicevo facciamo sulle mappe è l'accesso tramite una chiave. Normalmente quando io faccio un accesso voglio andare anche a verificare che la chiave corrisponde ad un elemento effettivamente presente all'interno della mia mappa. Lo posso fare in due modi, sfruttando il fatto che il metodo getter istituisce null quando alla chiave non corrisponde nessun valore, oppure utilizzando il metodo che si chiama contains key che verifica se la chiave è presente all'interno della nostra mappa. Un'altra operazione che io posso fare spesso all'interno delle mappe è quella di andare ad aggiornare i valori che sono presenti. Ad esempio, se vogliamo andare a contare le frequenze associate alle parole all'interno di un testo, se immaginiamo di avere una lista o un array di parole, possiamo fare un ciclo su questo array e andare a memorizzare dentro una mappa che fa corrispondere a chiavi tipo stringa dei valori tipo integer, le frequenze, ovvero il conteggio di quante volte quelle parole comparino all'interno del nostro testo. Per cui l'operazione consiste nell'andare a fare per ogni parola andare a vedere il valore, il conteggio associato fino a questo momento. Il conteggio potrebbe essere nullo e allora a questo punto andiamo a memorizzare uno, oppure potrebbe essere un valore diverso e quindi andiamo a memorizzare i più uno. Quindi facciamo un get del valore e poi facciamo un put sempre con la stessa chiave di un nuovo valore. Uno se non c'era nessun valore precedente, oppure i più uno se un valore era presente. Un'altra alternativa a questa soluzione è quella di utilizzare il metodo compute che è disponibile all'interno delle mappe e che sostanzialmente data una chiave calcola il valore da associare a quella chiave. Il valore ovviamente può essere basato sul valore precedentemente associato più altre informazioni. Per cui il metodo compute che cosa accetta? Accetta un parametro che è la chiave, la parola nel nostro esempio di conteggio delle frequenze, e accetta un'operazione che è una funzione che riceve due valori, la chiave stessa e il valore precedentemente associato a quella chiave, per cui data la chiave e il valore per questa parola chiave restituisce il nuovo valore da associare a quella chiave. Per cui se il valore precedente è uguale a nulla restituisce uno, altrimenti restituisce v più uno. Quindi vedete che l'operazione, questa espressione condizionale, è assolutamente analoga a quella del caso precedente dove avevamo il valore i che era associato alla chiave, solo che qui è un po' più compatto perché è messo all'interno di questa funzione lambda che permette di andare a dire che operazione fare per andare a calcolare il nuovo valore da associare alla parola chiave w. Attenzione che, sia in questo caso che nel caso precedente, questo v più uno nasconde un'operazione di autoboxing perché v, passato a questa lambda, è un oggetto di tipo integer. Quindi quando faccio v più uno, in realtà faccio new integer di v.intvalue più uno. Quest'operazione comporta la creazione di un nuovo oggetto di tipo integer ogni volta che vado a incrementare questo valore. Per cui questa operazione, oltre a essere costosa in termini di tempo perché devo andare a creare un oggetto, occupa anche memoria perché l'oggetto occupa della memoria. Indicativamente un oggetto di tipo integer occupa 16 byte nella memoria, che tanto, poco, beh, dipende da quanti oggetti vado a creare. Per cui questa operazione è tendenzialmente semplice da leggere ma nasconde un'insidia, un'occupazione di memoria che può esplodere se io ho tanti incrementi e soprattutto è più lenta di rispetto ad altre soluzioni. Ad esempio, se noi andiamo a definire una classe counter come questa che ha un attributo intero i, possiamo andare a incrementare questo attributo di volta in volta senza dover andare a creare un nuovo oggetto. Nel dettaglio questa soluzione utilizza un metodo che si chiama computeFabsent delle mappe che sostanzialmente ci restituisce il valore associato a una chiave e, se quella chiave non è presente, ce lo calcola e ne crea uno nuovo. In particolare qui abbiamo un producer che, data la chiave, in questo caso non ci interessa, crea un nuovo oggetto counter. Quindi il risultato di questo metodo computeFabsent è il counter già presente nella nostra mappa e associato alla parola oppure un nuovo counter e questo viene incrementato di volta in volta. Chiaramente questa soluzione è decisamente più efficiente rispetto a quella che utilizza integer è fino a un 40% più veloce e soprattutto risparmia 16 byte per ogni incremento rispetto all'altra soluzione. Ultima cosa da tenere presente quando andiamo a utilizzare delle mappe è che a volte è necessario mantenere gli elementi ordinati e questo lo possiamo fare tramite le sorted map. Le sorted map sono le mappe che mantengono le chiavi ordinate. Trimap è un esempio di sorted map. Il risultato qual è? E' che sostanzialmente quando io vado a elencare gli elementi che stanno in una mappa ordinata questi verranno presentati in ordine di chiave. Se invece utilizzo una mappa che non è ordinata, ad esempio le cache map non avrò nessun ordinamento specifico. Quindi le operazioni di base di get e put funzionano esattamente allo stesso modo che la mappa sia ordinata o meno, la differenza c'è nel momento in cui io vado a prendere gli elementi e a scandirli uno per uno. In un caso sono ordinati nell'altro sono un ordine che non è predeterminato a priori. A questo punto può essere utile andare a vedere qualche dettaglio relativo a come sono strutturate HashMap e Trimap. Abbiamo detto che l'HashMap è caratterizzato da un tempo di accesso sia di inserimento che di recupero costante, quindi indipendente dal numero di elementi presenti nella nostra HashMap e sfrutta un concetto che è noto come una tabella di hash. Quindi qual è l'idea? È che dato una chiave di un elemento che io voglio aggiungere all'interno della mappa, vado a calcolare il suo hashcode. Quell hashcode serve come indice all'interno di un array, va andando a identificare quello che si chiama un bucket, quindi un elemento all'interno di un array. A questo punto, quando io ho la chiave per sapere in che bucket voglio andare a mettere il valore, semplicemente calcolo il suo hashcode e questo può essere utilizzato sia in fase di inserimento, quindi put, che in fase di get. A questo punto, una volta che sono in che bucket è memorizzato il mio elemento, ottengo quella che si chiama la entry, che è una coppia chiave e valore. Quindi, dato l'hashcode, recupero l'indice del suo bucket e da quello ottengo la entry, che è la coppia chiave e valore, quindi posso andare a recuperare il valore, oppure inserisco la coppia chiave e valore. È ovvio che, quando ho a che fare con delle hashmap, è bene che il metodo hashcode della chiave sia fatto in maniera opportuna, ovvero produca dei valori che siano il più diverso possibile per tutti i valori, in modo che vadano a inserirsi in bucket diversi, altrimenti abbiamo un meccanismo che si chiama di collisione. In generale, il metodo hashcode è già predefinito in maniera adeguata per le classi di base, quindi valori numerici, wrapper oppure le stringhe. Se noi vogliamo utilizzare come chiave di un hashmap, una nostra classe, è ovvio che dobbiamo provvedere a definire il suo metodo hashcode. Nel caso di collisione, cosa succede? Si mette in atto un meccanismo che si chiama de-chaining, per cui, quando due chiavi hanno lo stesso bucket, cosa faccio? Vado a creare una specie di lista di entry in cui metto concatenati uno dopo l'altro tutti i vari elementi. Ovviamente più lunga è questa lista, più rischia di diventare poco efficiente la gestione delle hashmap. Per questo motivo, superata una certa lunghezza di queste liste, c'è un'operazione di aggiornamento in base alla quale il nostro elenco, il nostro array di bucket viene esteso andando a suddividere ulteriormente tutti i nostri entry all'interno di bucket, di più bucket rispetto a quelli di partenza. Per quanto riguarda la trimap, questo si basa su un albero di ricerca, in particolare un albero che utilizza un algoritmo che si chiama red-black, che garantisce un tempo di accesso che è logaritmico. Attenzione che ovviamente per andare a fare una ricerca all'interno di un albero io devo andare a confrontare la chiave con quelle altre che sono presenti all'interno del mio albero di ricerca. Per cui le chiavi di un trimap devono essere confrontabili, oppure in alternativa devo passare alla trimap un comparatore, quindi un oggetto comparatore aggiuntivo, che sia in grado di fare i confronti. Come funziona la trimap? Beh, sostanzialmente l'idea è che io ho un entry che è la radice del mio albero, che ha due sotto-entry, le quali a loro volta possono avere delle sotto-entry, eccetera. Qual è il criterio che viene utilizzato? Beh, sostanzialmente a sinistra della mia entry radice avrò chiavi che sono più piccole della radice. A destra avrò chiavi che sono più grandi della radice. Quindi quando faccio una ricerca normalmente che cosa faccio? Parto dalla radice e vado a vedere se la chiave è esattamente quella oppure se è più grande o se è più piccola. A questo punto se è più piccola vado a sinistra e faccio la stessa operazione o è quella oppure più grande o più piccola, quindi vado a sinistra o a destra. Quindi in pratica ogni volta che faccio una operazione di confronto vado a dimezzare il numero di elementi in cui posso trovare la mia chiave. Ovviamente a forza di dimezzare in pratica il tempo necessario, o comunque il numero di confronti necessario per trovare la mia chiave, non è più proporzionale al numero di elementi, ma bensì è proporzionale al logaritmo del numero di elementi. Quando utilizzo un e-trimap, quindi in generale i sorted set, visto che e-trimap è la classe che implementa l'interfaccia sorted set, devo ricordarmi sempre di mantenere chiavi che abbiano un ordinamento naturale e ricordarmi che le chiavi vengono ordinate in quel modo. Se io voglio un ordinamento diverso, oppure le chiavi non hanno un loro ordinamento naturale, ovvero non implementano un'interfaccia comparable, devo fornire io un comparatore. Il grosso vantaggio è che, sebbene a fronte di un'efficienza leggermente inferiore a quella che è costante dell'e-trimap, in questo caso è logaritmica, ho la possibilità di avere gli elementi che sono mantenuti ordinati. A questo punto, che cosa vuol dire in termini pratici andare a fare una ricerca di un elemento all'interno di un'e-trimap, piuttosto che un'eshmap, oppure una ricerca all'interno di una lista? Lo vediamo in questo esempio. Allora, immaginiamo di avere la necessità di fare 100.000 ricerche all'interno di un contenitore. Quanto è grande quel contenitore? Beh, qui ho messo due casi, 100.000 elementi o 200.000 elementi. Le ricerche sono fatte in base a delle stringhe. Nel caso dell'e-trimap, il tempo necessario a fare la ricerca è costante, cioè è 3 millisecondi in un caso e 3 millisecondi nell'altro, quindi non dipende dal fatto che il nostro contenitore, il nostro hash map, contenga più o meno elementi. Nel caso della trimap, il tempo cresce leggermente, però cresce con il logaritmo, quindi molto lentamente, quindi per andare a fare una ricerca in una mappa con 100.000 elementi ci impiego 60 millisecondi. Se la ricerca la devo fare in una mappa con 200.000 elementi ci impiego 65 millisecondi. Stiamo parlando di dimensioni notevoli, quindi passiamo comunque da 3 a 60, quindi stiamo dicendo 20 volte più lento. Se io questa ricerca invece di farla tramite una mappa, la facessi tramite una lista, quindi andando a scandire gli elementi all'interno della lista, ecco, il tempo necessario per fare 100.000 ricerche in una lista che contiene 100.000 elementi è intorno ai 40 secondi. Quindi stiamo parlando di 3 millisecondi contro 40 millisecondi, 10.000 volte di più. Qui stiamo parlando di un rapporto 1 a 20, qui stiamo parlando di un rapporto 1 a 10.000. Se utilizziamo una linked list, dovendo fare la scansione, che non è più tramite un indice, ma andando a prendere tutti gli elementi, l'operazione è ancora più complicata e richiede tempi decisamente più alti, stiamo parlando oltre un'ora. Quindi io la ricerca la faccio comunque, prima o poi l'elemento lo trovo, il problema è che l'elemento o gli elementi, soprattutto se ne devo fare tante e in contenitori grandi, li posso trovare in 3 millisecondi oppure qualche nanosecondo, perché qui stiamo parlando di 3 millisecondi per fare 100.000 ricerche. Quindi il tempo per trovare l'elemento che sto cercando è di qualche millisecondo, o meglio qualche nanosecondo, rispetto a minuti, se non ore. Per cui le funzionalità potrebbero essere analoghe, riesco a fare più o meno le stesse cose, è chiaro che la semplicità del codice, nel caso delle mappe io scrivo semplicemente un get, nel caso delle liste devo andare a fare un ciclo di controllo, quindi il codice che scrivo in un caso è molto più complicato dell'altro, e poi il tempo necessario a fare la ricerca cambia significativamente. Ultima nota relativa al nostro framework delle collezioni è la presenza di una serie di algoritmi. Abbiamo già parlato della classe java.util.arrays, che contiene una serie di algoritmi utili per andare ad operare sugli array. Ecco, per quanto riguarda le collezioni, esiste una classe che si chiama java.util.collections, vi sottolineo la S finale, quindi questa è una classe che contiene dei metodi statici, e non è l'interfaccia collection, che contiene per l'appunto una serie di metodi. Il metodo di sort, che di nuovo si comporta esattamente come metodo sort per gli array, un metodo binary search che fa una ricerca in una lista ordinata, shuffle, reverse, rotate, che sostanzialmente vanno a fare operazioni sulle liste. Perché questi algoritmi funzionano sulle liste? Perché per fare una ricerca, per fare un ordinamento, io ho bisogno di accedere agli elementi in base al loro indice, in modo da poterli eventualmente scambiare. Su una collezione io non posso accedere a un indice, su un set non posso accedere a un indice, su una coda neppure. Quindi per fare delle operazioni di questo tipo ho la necessità di avere un contenitore che mi permetta di accedere tramite indice. E questa è la lista. Per cui tutti questi algoritmi richiedono, come struttura dati su cui operare, una lista. Per quanto riguarda l'ordinamento ci sono, esattamente come nel caso degli array, due varianti. Un sort a cui passo una lista di tipo T, dove T estende comparable di unknown super T. Non vi sto a rispiegare perché c'è questo tipo di dichiarazione, ne abbiamo parlato andando a discutere delle wildcard dei tipi generici. Abbiamo visto lo stesso caso per quanto riguarda l'ordinamento di elementi all'interno di un array. E la seconda variante è quella in cui passo una lista e oltre alla lista passo un comparatore che ovviamente deve poter ordinare unknown super T. Quindi posso avere l'ordinamento dato un comparatore che sia in grado di confrontare una qualunque delle super classi degli elementi della nostra lista T. Poi ho gli algoritmi di ricerca. Gli algoritmi di ricerca sostanzialmente vanno a cercare all'interno di una lista presupponendo che questa lista sia già ordinata. E quindi sostanzialmente vanno a fare per l'appunto una ricerca binaria. Cosa vuol dire? Che partono dalla posizione intermedia della nostra lista e se il valore ricercato è più piccolo lo cercano nella parte sinistra. Se il valore ricercato è più grande lo cercano nella parte destra e quindi continuano a dividere a metà ogni volta che devono fare una ricerca finché trovano il valore oppure scoprono che non c'è. E quindi questi algoritmi di ricerca sostanzialmente hanno una complessità che è logaritmica. Quindi concludendo, il framework di collezioni contiene un insieme di classi e soprattutto interfacce che permettono di andare a rappresentare dei contenitori di elementi. Ci sono due grosse famiglie di contenitori, i contenitori di gruppo e i contenitori associativi. I contenitori di gruppo fanno capo all'interfaccia che si chiama collection e poi ovviamente ci sono le sottocategorie, gli insiemi, le code, le liste. I contenitori associativi invece fanno capo all'interfaccia che si chiama map che permette sostanzialmente di andare ad associare una chiave a un valore. Abbiamo parlato adesso di quale tipo di struttura dati e implementazione, uno specifico, andare a scegliere. L'obiettivo è poter utilizzare queste classi per andare a scrivere del codice che sia il più semplice possibile e questa semplicità ci viene anche data dal fatto che tutte le interfacce, le classi in questo framework sono dei tipi generici e quindi possono essere applicati tranquillamente a elementi di qualunque tipo e implicitamente, in quanto tipi generici, manipolano queste classi in maniera semplice senza avere la necessità da parte del programmatore di fare controlli aggiuntivi o di inserire dei cast specifici. Con questo abbiamo concluso la nostra panoramica sul frame delle collezioni.